Un vero e proprio bollettino di guerra. Tre le persone che hanno perso la vita sul lavoro in Alto Adige negli ultimi sette giorni. Erar Tuzzer, Vignaiolo di Marlengo, Hartmann, Helweger, Boscaiolo di Rasundi sotto e il giovane, giovanissimo Armin Mittermeier, schiacciato dal tronco di un albero a Nova Levante. Morire sul lavoro è terribile, morire a 21 anni è inaccettabile. Alto Adige, maglia nera dei decessi in Italia. Nel 2019 erano 15. L'anno scorso siamo arrivati a 20, quest'anno siamo ad otto e siamo solo nel primo quadrimestre. Cifre inaccettabili, conseguenza anche del mancato controllo del territorio fronte su cui la provincia di Bolzano continua a fare troppo poco. Abbiamo solo otto ispettori che vanno in giro ad esempio per i cantieri oppure nelle foreste a verificare le condizioni di lavoro che sono meno della metà di quelli del Trentino. Servono più ispettori del lavoro, controlli sì ma anche prevenzione perché la sola repressione non basta, urge un vero e proprio cambio culturale. Il fatto che alcune aziende facciano concorrenza ad altre sul costo del lavoro magari diminuendo i costi relativi alla formazione sulla sicurezza è un danno per le lavoratrici e per i lavoratori ma anche per quelle aziende virtuose che invece la sicurezza ci tengono perché è una concorrenza sleale. Concorrenza sleale sulla pelle dei lavoratori insomma c'è tanto da fare perché sul fronte della sicurezza le carenze in Alto Adige sono le stesse che nel resto del paese.